Parte in Piemonte la prima delle quattro fasi di intervento per l'avvio del piano strategico Ultra Banda Larga all'interno degli accordi programmatici firmati con il Ministero dello Sviluppo Economico. Crediamo che la Banda Ultra Larga sia un dovere, un dovere della città metropolitana di coordinare i comuni all'interno della nostra area affinché sempre di più si possa arrivare a una digitalizzazione del nostro territorio. Ricordiamoci che comunque l'accesso a internet è un accesso che permette quindi la ripopolazione del nostro territorio. I comuni collocati nella prima fase hanno già sottoscritto la convenzione operativa per l'avvio degli interventi da parte dell'aggiudicatario dell'appalto Enel Open Fiber che ha firmato il contratto nel novembre scorso e deve ora presentare a Infratel il progetto definitivo. Per condividere le tempistiche della prima fase e i dettagli sull'avvio del piano strategico si è tenuto un incontro nell'auditorium della città metropolitana di Torino. Erano presenti gli amministratori dell'ente di area vasta e i due assessori regionali alle attività produttive e all'agricoltura. Questo progetto nel giro di due o tre anni si dovrebbe realizzare per un'azienda agricola di territorio collinare o montano torinese, macunese e di altre province. Cosa significa? Intanto significa non essere isolati, significa poter fare e-commerce e quindi vendere i propri prodotti, avere un sito internet sempre collegato, efficiente, significa poter avere turisti senza più il problema che questi abbiano necessità di connettersi per il loro lavoro e quindi ci sia un problema ma soprattutto significa che i comuni, i piccoli comuni, le aree rurali diventano centrali cioè da domani lì può nascere un ufficio collegato con tutto il mondo non è necessario più essere in una grande città, si può fare in qualsiasi comune o frazione.